La priorità del prossimo Parlamento Europeo deve essere il diritto alla felicità, per tutte e per tutti. Ma a che servono le elezioni europee? Abbiamo intervistato tutti i principali leader ed esponenti politici per capire cosa farebbero in Europa e quali sono le loro idee per il nostro futuro. Per parlare di temi concreti, oltre alla solita retorica. Per aiutarvi a rispondere alla domanda più scomoda che potranno farvi in questo periodo. Ma tu, per chi voti? Benvenuto Marco Furfaro, deputato del PD, responsabile delle iniziative politiche del partito. Lei come parola, priorità del prossimo Parlamento Europeo, ha scelto felicità, diritto alla felicità. Ci spiega perché? Perché c'era un tempo in cui la politica aveva il coraggio di dire a una ragazza meno fortunata, a un ragazzo meno fortunato che veniva magari da una famiglia più umile, anche nel mio caso, da una famiglia operaia che davvero non arrivava a fine mese, che anche lui, anche lei aveva il diritto di essere felice. E il diritto di essere felice significa avere un'opportunità, poter studiare anche se magari i tuoi genitori non hanno i soldi per pagarti l'università, quindi un welfare che si prende cura di te. Significa poter andare in strada e magari prendere la mano della persona che ami, anche se è del tuo stesso sesso e non rischiare di essere picchiato. Significa vivere in un'Europa in cui davvero si batte per la pace, perché le guerre chiaramente non fanno stare bene nessuno. Il diritto alla felicità significa decidere della propria vita e anche della propria morte. Significa poter fare un lavoro in cui non sei semplicemente un precario sfruttato, ma magari lo fai per un periodo in cui c'è un lavoro flessibile, anche ti impegni se ti stanca, però poi c'è anche la possibilità di stare ben, di goderti la famiglia, di goderti la vita. Prima del Covid in Europa una persona su sei aveva problemi di natura legata alla salute mentale. Dopo il Covid una persona su due. E la cifra che lega tutte quelle persone, milioni di persone, è la solitudine. L'Europa si differenziava, se si ricorda quando eravamo piccoli, ci differenziavamo dagli Stati Uniti per una parola. Quella parola era welfare. E non era semplicemente l'idea di assistere le persone che rimanevano indietro, ma a differenza magari degli Stati Uniti che c'era uno su mille ce la fa e altri 999 rimanevano indietro, magari non si potevano pagare l'assistenza sanitaria, non avevano un lavoro buono. Noi crescevamo con un'idea di società diversa, che era quella nella quale non solo nessuno doveva rimanere indietro, ma che la comunità ha senso ed esiste quando avanza tutto e tutti insieme. E così si dava non solo la felicità individuale che diventava collettiva, ma si dava anche una prospettiva di vita. Cioè che se tu nascevi appunto anche in una famiglia di umili origini, avevi anche tu la possibilità di avere un'opportunità, di essere felice. Senta, il vostro slogan per l'Europa è l'Europa che vogliamo. Ce lo spiega brevemente? L'Europa che vogliamo perché innanzitutto crediamo che lo scollamento più grande tra politica, istituzioni e persone sia dato esattamente dal fatto che le persone non sono più padrone del loro destino. Guardi, questo riguarda anche la sinistra, che è stata purtroppo se abbiamo perso le elezioni in questi anni, abbiamo fatto tanti errori, ma la cosa principale che è cambiata forse è un'altra. è il fatto che oggi chi si affaccia anche alla vita, i ragazzi e le ragazze in particolare, hanno uno scollamento gigantesco verso le istituzioni e la politica perché non sentono più di essere padroni del proprio destino, di avere una libertà di scelta. Cioè si trovano davanti a una politica che sembra oramai arresa all'esistente e le persone vedono come la propria vita, come oramai destinata a una precarietà ineluttabile. L'Europa che vogliamo è un'Europa che diventa federale perché è politica, perché è rappresentata dai cittadini e soprattutto fa quello che vuole la maggioranza dei cittadini. Faccio alcuni esempi. Noi siamo dentro a tempi terribili in cui ci sono guerre e credo che la stragrande maggioranza dei cittadini europei vorrebbe un'Europa che ovviamente sostiene l'Ucraina, ma che è anche in grado di mettere in campo una forza politica di diplomazia per la pace, un'Europa che chiaramente si batte per il diritto all'esistenza di Israele, ma è anche in grado di dire al governo di Israele, a Netanyahu che con odio non si risponde con altro odio, che il terrorismo non si combatte magari ammazzando o affamando bambini e donne civili e inermi. C'è un'Europa che possa dare la possibilità ai cittadini di somigliare molto più a se stessi e di riprendersi il proprio destino nella vita. È chiaro che questo significa atti concreti. Quando parliamo di Europa sociale significa salario minimo, quando parliamo di Europa sostenibile significa un piano per la transizione ecologica e quindi lavoro, però c'è un'idea in sé che è quella davvero di ridare una forza all'Europa che non sia solo una potenza commerciale, ma anche un gigante politico e gigante politico significa una democrazia compiuta in cui i cittadini si riappropriano del proprio destino. Noi stiamo facendo queste interviste anche per orientare un po' il voto, tante persone che ci ascoltano, che magari si troveranno a votare per la prima volta, non sanno ancora a chi votare. Quindi la domanda qui è abbastanza semplice, la stiamo facendo a tutti. Perché votare voi? Vorrei dire così, votare noi forse perché oggi il PD è guidato da una segretaria, donna e da una nuova generazione profondamente europeista, ma non solo, che ha vissuto sulla propria pelle esattamente quello che era purtroppo, che poi si è rilevelata un'illusione del sogno europeo. Cioè noi siamo cresciuti affacciandoci dopo le superiori, chi andava all'università, chi andava al lavoro, ma con l'Europa in cui i muri venivano giù, le frontiere cadevano. E non era l'Europa in cui si poteva semplicemente fare un volo low cost o magari fare, come è stata banalizzata la generazione Erasmus, cioè fare un viaggio all'estero perché andavi a fare uno stage, ma c'era qualcosa in più. Era l'idea appunto di viaggiare, di scambiarsi competenze, culture, integrarsi con gli altri, perché crescevi tu, cresceva il tuo paese quando poi tornavi. Cioè andavi via ma con la possibilità di tornare, non era una costrizione. Cioè vedevamo quel sogno come l'idea davvero di costruire qualcosa di grande in cui democrazia, libertà, pace e opportunità fossero possibili. Poi negli ultimi anni purtroppo, negli ultimi 20-30 anni, questo sogno si è un po' scretolato. L'Europa oggi difende diritti, però ha perso smalto, ha perso quella prospettiva davvero di essere un continente modello da questo punto di vista. E noi lo sappiamo bene perché appunto siamo stati quella generazione che prima ha visto quel sogno e poi l'ha visto tradire. E oggi quel sogno noi vogliamo rimettere in piedi perché magari abbiamo figli o abbiamo nipoti a cui vorremmo davvero regalare un'Europa molto migliore di quella che è adesso. Sempre nell'ottica di fare un po' di orientamento al voto, ci dice in quale famiglia europea, in quale partito europeo confluiranno gli eventuali europarlamentari eletti nel PD e anche poi che maggioranza vorreste per il prossimo Parlamento europeo? I nostri parlamentari e le nostre parlamentari entreranno alla famiglia del gruppo dei socialisti democratici europei, cioè la sinistra europea è una tradizione come sa molto profonda e per quanto riguarda la maggioranza da costruire non abbiamo nessun dubbio, è una maggioranza ovviamente europeista che creda nell'Europa, che creda nella difesa dei diritti, che creda in un nuovo modello di sviluppo in cui ci sia buon lavoro e sostenibilità ambientale. Questo si può fare io credo provando a costruire una maggioranza che vada dai liberali, passa per noi socialisti, alla sinistra e ai verdi. Passiamo un po' i temi. Sicuramente non ci alleeremo con le forze d'estrema destra. Questo è chiaro. Esattamente. Passiamo un po' i temi. Allora, cominciamo dal tema lavoro, che è uno dei primi punti che ho poi trovato guardando, leggendo il vostro programma. Allora, a livello europeo, perché poi quando guardiamo all'Europa, in questo caso le elezioni europee, sul lavoro è uno dei primi confronti che si fanno, e a volte è abbastanza, insomma, come dire, complessa la situazione italiana rispetto anche ad altre realtà europee. Quindi cosa si può fare a livello europeo? Intanto a livello europeo bisogna mettere a fuoco che il mercato del lavoro è intrecciato gli uni dagli altri. Lo vediamo ogni volta. Anche questo è un tema per chi vuole un'Europa che avanzi e che invece difende questa Europa o addirittura vuole tornare indietro. È qualcosa di paradossale, ma è inaccettabile. Credo che ci siano multinazionali che vengono in un territorio, come è anche successo all'Italia, vedi la vicenda Whirlpool, e non solo a GKN, che prendono magari finanziamenti pubblici e fondi europei addirittura per implementare le proprie sedi operative. E poi dopo un po' di tempo fanno due calcoli e scoprono che magari se se ne vanno all'estero possono prima prendere i soldi e i finanziamenti pubblici, licenziare i lavoratori e le lavoratrici italiane e magari andare in Ungheria o in Polonia perché costano meno, mettendo in campo una concorrenza sleale. Per questo motivo andrebbe armonizzato e creato un mercato del lavoro europeo, perché i salari bassi, che in particolare il nostro paese purtroppo ha anche tante responsabilità, si alzano costruendo un salario minimo per tutta Europa, in modo tale che sotto quel salario, tra l'altro la politica è anche in grado di dire sotto quel salario non solo è sfruttamento, è schiavitù, è illegale, perché non si può far lavorare le persone a 2-3 euro l'ora. Andrebbero tagliate le tasse sul lavoro in particolare che sono molto alte e che vanno anche a penalizzare le buste paga. Però se posso c'è un tema che secondo me è ancora più grande. Noi dobbiamo decidere di passare dalla precarietà alla modernità, perché siamo in un tempo in cui c'è i cambiamenti climatici e quindi la transizione ecologica, la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, grandi potenze come Cina, Russia, che entrano ovviamente, Brasile, India, ma come possiamo competere con l'idea che il lavoro è semplicemente lo sfruttamento di persone a 3-4 euro l'ora su cui tu realizzi un vattaggio competitivo. Io credo che se tu davvero vuoi costruire un'Italia con la I maiuscola, un'Europa con la E maiuscola, come spesso si fa tanta retorica e demagogia, tu devi investire ovviamente su generazioni che si formano, studiano, hanno competenze per essere immesse nel mercato del lavoro e possono affrontare quelle sfide. Devi affrontare il tema, faccio un esempio, che è davvero un paradosso. Noi in Italia abbiamo una carenza di medici, che però è una carenza che c'è in vari altri paesi e a fronte alla carenza di medici abbiamo migliaia di medici che se ne vanno all'estero e in più abbiamo generazioni di ragazze che non si formano, non studiano più perché la professione del medico, quelli eroi che noi abbiamo salutato durante l'epoca del Covid, non è valorizzata nella sanità pubblica. Ecco, io credo che l'Europa abbia questa sfida, non solo di alzare i salari, non solo di negare la concorrenza sleale, ma anche da passare in un modello nel quale ci siamo arresi alla competizione con paesi che magari non rispettavano le regole sul lavoro, che pagavano meno le persone, all'idea invece che proviamo a costruire un lavoro di qualità affrontando le sfide della contemporaneità. Però a proposito di modelli che l'avevo appunto segnato, allora la domanda è bisogna ridiscutere le forme di lavoro? Faccio un esempio, c'è il discorso della settimana corta, c'è il discorso appunto abbiamo detto un salario minimo europeo, c'è un discorso sui stagio gratuiti che voi portate avanti. E allora qual è su questo punto la strada da seguire per tenere insieme queste cose e soprattutto per farla seguire alle aziende perché poi alla fine il tema è quello, le aziende devono seguirle queste proposte altrimenti assolutamente sì assolutamente sì ma per questo le aziende ovviamente ci sono aziende che hanno le loro colpe perché sfruttano le persone e costruiscono e questo però stiamo nel tema dell'illegalità ma la gran parte delle piccole e medie imprese delle imprese italiane sta dentro un sistema però che ha avuto un messaggio dallo Stato che non era quello di costruire una valorizzazione del cosiddetto capitale umano anzi è stato tutt'altro era ampliare un'offerta di lavoro rendendo le persone sempre più povere ricattabili che a fronte di una domanda ovviamente scarsa perché siamo in tempi anche di crisi quelle persone rinunciavano magari a salari a diritti portando verso il basso la condizione materiale di dignità del lavoro di quelle persone ma costruendo un sistema industriale e di economia del paese nel quale le imprese anziché concorrere verso la qualità generavano una concorrenza con le altre imprese sul costo del lavoro ora ma nel 2024 con la tecnologia e tutte le sfide che abbiamo davanti forse sarebbe il caso invece di parlare anche come sa noi adesso stiamo facendo una trasmissione a Roma in una città in cui ci sarebbe anche la necessità magari di conciliare le politiche tra vita e lavoro di poter fare smart working la riduzione dell'orario di lavoro ma serve semplicemente perché noi abbiamo macchine che sostituiranno le persone questo significa che delle macchine faranno il lavoro che potranno fare quelle persone a minor costo quindi qualcuno ci guadagna quel guadagno forse anziché relegarlo in mano a poche multinazionali forse possiamo ridistribuirlo in modo tale da liberare tempo perché quel tempo fa stare le persone in famiglia fa avere un maggior benessere mentale in un periodo in cui c'è anche quel tema che se c'è un pregiudizio o un stigma e se ne parla poco e gli stage gratuiti semplicemente vanno aboliti perché quando una persona impara impara sì per se stessa ma svolge anche un lavoro una professione dentro un'impresa è un'azienda e quindi è giusto che sia remunerata perché porta comunque il proprio lavoro e valore noi ci stiamo adeguando a un tempo in cui stiamo metabolizzando che le persone sono davvero uno scarto io sogno qualcosa di più per il mio paese per l'Europa in cui davvero si affronta le sfide della modernità anche reinventandosi il mondo del lavoro in cui le persone possono fare a casa in cui si può ovviamente fare in modo flessibile ma questo non significa tra la flessibilità e la precarietà esistenziale in cui siamo finiti c'è una grande differenza oggi le persone lavorano quasi 24 ore al giorno tramite il cellulare oppure sul luogo di lavoro e invece noi dovremmo liberare tempo perché forse questa libertà di tempo fa aumentare anche la produttività perché una persona lavora più serena più convinta più determinata un altro tema è quello viviamo appunto in grandi città sappiamo qual è la situazione un altro tema è quello del caro affitti in generale del costo della vita nelle grandi città allora chiedo come si può intervenire a livello europeo su questo punto si può portare avanti una politica europea credo proprio di sì intanto a me ha colpito tantissimo che il governo Meloni come prima scelta dopo aver strombazzato per mesi nelle piazze prima gli italiani dando l'idea anche forza a questa retorica che a differenza di chi c'era prima loro avrebbero difeso le persone più fragili uno dei primi provvedimenti è stato completamente definanziare il fondo affitti il fondo contro la morosità incolpevole il fondo contro la morosità incolpevole riguarda i morosi incolpevoli c'è coloro che diventano morosi non riescono più a pagare l'affitto ma non per colpa loro infatti incolpevoli cioè significa magari due persone anziane una coppia di anziani un conice purtroppo se ne va perde un conice e quella persona era più in grado di pagare l'affitto allora esisteva un fondo per il quale questa persona andava in comune a chiedere un aiuto e oltre alla giustizia per quella persona era anche un simbolo perché dimostrava che appunto lo Stato se tu inciampi e non è colpa tua ai 70 anni non hai la possibilità di aumentarti la pensione trovare un reddito ti aiuta lo Stato che si prende pure di te è stato completamente definanziato il diritto all'abitare è un problema gigantesco in questo paese ed è un problema gigantesco sia per le giovani generazioni tant'è vero noi abbiamo 7 ragazzi su 10 siamo tra i più alti in Europa che fino a 35 anni rimangono i propri genitori ma riguarda adesso purtroppo si sta generalizzando in tutta Europa è oltre il 60% come si fa? si fa intanto dando la possibilità a quei ragazzi e le ragazze di avere autonomia e quindi c'è una politica che riguarda i ragazzi investire su loro e dargli prospettive concretamente sul diritto all'abitare c'è un tema che riguarda in modo specifico l'Europa perché ci sono regioni e istituzioni che lo fanno meglio e altre meno meglio cioè l'Europa ha tanti fondi europei anche per la rigenerazione urbana noi abbiamo migliaia di edifici pubblici sfitti tra casermi edifici non utilizzati quegli edifici vanno rigenerati vanno utilizzati chiedendo ai ragazzi e alle ragazze di fare dei progetti perché possono diventare alloggi universitari va ricostruito un tema che ha a che fare con l'edilizio popolare pubblica che non significa anche costruire o mettere mattone su mattone ma appunto riutilizzare edifici pubblici dare la possibilità a chi non ha una casa di averla e costruendo anche elementi di housing sociale di housing intergenerazionale nel quale magari tu metti assieme un anziano che non è autosufficiente come un ragazzo che fa l'università che non è il retorico ma sono come stanno costruendo i migliori esempi europei cioè costruisci luoghi di comunità nel quale tieni dentro il diritto all'abitare ma vai anche a combattere la solitudine delle persone su questo però mi viene una domanda proprio nel confronto con gli altri paesi europei cioè allora perché un ragazzo che magari una ragazza una ragazza uno studente un giovane che va a fare un'esperienza all'estero poi dovrebbe tornare in Italia purtroppo io ci pensavo su di me perché io a 23 anni finisco l'università in Toscana e me ne vado prima resto in Europa me ne vado prima a lavorare in Bosnia e poi vado in Belgio e poi me ne torno a 29 in Italia ma il mio è stato un caso fortunato perché io sono uno di quelli che ha scelto di partire e non sono stato costretto a restare nel paese in cui sono andato ho avuto anche la possibilità di tornare le racconto una cosa che ho scoperto perché avevo anche la fortuna ho avuto la fortuna di vincere una borsa di studio e fare l'università in Toscana perché la regione mi ha pagato la borsa di studio e quindi finanziarmi gli studi io ho scoperto che esisteva una figura particolare in Italia andando proprio all'estero perché ero in Belgio e a un certo punto in un convegno in cui c'era anche la traduzione un italiano nomina la figura dello studente idoneo non beneficiario io stavo ascoltando la traduzione inglese per fare anche ovviamente pratica e non riuscivo a tradurlo il traduttore perché era una figura che non capiva cos'era sapete cos'è lo studente idoneo non beneficiario in un paese in cui si fa una morale pazzesca ai giovani sono decine di migliaia purtroppo decine di migliaia di ragazzi e di ragazzi che hanno diritto a una borsa di studio perché magari nascono una famiglia appunto di condizioni economiche più umile di altre quindi per reddito e per merito cioè sono bravi danno gli esami in tempo e che lo Stato gli dice tu hai diritto allo studio perché appunto hai queste due caratteristiche e poi gli arriva una lettera a casa in cui gli viene detto no ma per te quei soldi non ci sono perché sei idoneo ma non beneficiario perché a te non ti vogliamo dare i soldi li destiniamo ad altri poi quel ragazzo magari accende la tv gli viene negata una borsa di studio a cui avrebbe diritto e vede l'annuncio del fatto che il governo ha fatto 15 condoni fiscali per oltre un miliardo di euro ma che dovrebbe pensare della politica anche così si ridà un'autonomia dando la possibilità a un ragazzo o una ragazza di giocarsi la partita della vita nessuno vuole che gli si regali una villa una piscina la facilità ma almeno devi dargli l'opportunità e se tu vuoi far uscire di casa i ragazzi e le ragazze devi investire su quelle persone soltanto oggi non si investe sulle persone non si investe sui giovani purtroppo c'è una grande morale spesso paternalistica perché è fatta magari da generazioni di uomini anche un po' andati con l'età che non hanno cognizione del mondo reale e che però tutto questo va cambiato anche per far recuperare quella distanza o tu ascolti e investi sulla capacità di autonomia delle persone oppure rischi di costruire un paese nel quale non solo c'è un'individualità ovviamente che soffre di una fragilità che avrà bisogno ma che non fa avanzare nemmeno il paese negli ultimi anni si sta parlando un altro di questi temi sempre a proposito di giovani eccetera sempre più insistentemente di natalità soprattutto il governo su questo insomma ci punta tanto anche a livello insomma di retorica eccetera allora la prima domanda è c'è un problema demografico secondo lei in Italia sì assolutamente sì c'è un problema demografico che che non è assolutamente spiegabile con gli argomenti che ha il governo il governo parla di famiglia marea retorica per loro la famiglia è semplicemente un luogo riproduttivo in cui la donna deve stare là a casa a fare figli ovviamente senza dargli nessuno strumento e l'unico elemento su cui giocano è combattere il diritto all'aborto che viene messo in discussione dopo che comunque pensavamo fosse acquisito e lo dico non solo perché il diritto all'aborto come dicono le statistiche ha costruito anche tanta prevenzione cioè sono diminuiti gli aborti quando c'è il diritto all'aborto ma la Francia che ha il diritto all'aborto esteso gratuito legalizzato nel 1975 è un paese che ha invece il tasso di natalità molto più alto del nostro perché perché ci sono politiche per la famiglia e per l'infanzia oggi purtroppo la mia le generazioni più giovani non è che non fanno figli ho fatto un figlio a 40 anni e l'ho fatto perché speravo che prima o poi la precarietà venisse meno invece tra l'altro il mio primo contratto a tempo indeterminato l'ho tenuto a 42 anni quindi dopo perché a un certo punto mi sono arreso e mi sono quasi pentito ma è la precarietà è l'ansia di non avere una prospettiva di futuro che ti frena a fare figli e tu hai l'ansia di una prospettiva di futuro maschio io pensi alla mia compagna che è donna che non è pagata quanto gli uomini che ha meno possibilità di carriera oggi siamo in un paese nel quale il 70% di chi diventa genitore e lascia è donna una donna su 5 che ha un figlio deve lasciare il lavoro non ci sono politiche di concilenzio della vita tra lavoro e famiglia sei sottoposto continuamente a un ricatto siamo un paese nel quale tutti si sbracciano contro la classe politica il governo contro la sugar tax ma nel frattempo tu aumenti le tasse sui prodotti per l'infanzia i pannolini i seggiolini per i bambini quando dovresti invece costruire una politica che so che gratuitamente per i primi giorni di un bambino tu dai la possibilità a quella famiglia di avere servizi l'accesso a una babysitter all'ostretica di base così costruisci politiche che possano favorire la natalità quindi quale può essere esatto un pacchetto parlando nel pratico di politiche che possono aiutare un pacchetto parlando nel pratico sono un sostegno all'occupazione femminile evidentemente un controllo ferro affinché sia applicata la parità salariale tra uomo e donna un congetto di paternità e sono un che ha fatto un figlio ha avuto una settimana di congetto o per stare con i miei figli vi assicuro che avrei voluto starci molto di più perché è giusto che il lavoro ovviamente sia diviso equamente tra donne e uomini servizi asilinido ma ne dico una io vorrei davvero che si parla spesso i soldi forse non so se sono tantissimi o pochissimi però c'è un punto sul quale io non sopporto l'ipocrisia la politica fa scelte politiche tu hai dei soldi anziché fare i condoni fiscali anziché magari mettere in campo il ponte di Messina che è una cattedrale nel deserto costruisci una politica per la quale tu dici per i primi mille giorni di vita di un bambino o di una bambina lo Stato si prenderà cura di quella bambina o di quel bambino attraverso il fatto che appunto rendi gratuiti i prodotti per l'infanzia le cure l'assistenza sanitaria la possibilità di avere una babysitter queste sono le politiche che aiutano una famiglia quando una famiglia ha libertà di scelta se sei sottoposto a un ricatto è chiaro che diventa complicato anche fare i figli perché ci porti dentro pure tuo figlio o tuo figlio in quel ricatto sento un altro tema di cui stiamo parlando molto in queste interviste è la questione ambiente su cui voi sappiamo siete molto attenti parto da una prima domanda insomma anche un po' provocatoria l'urgenza che percepiscono tanti giovani che protestano abbiamo visto tante volte le immagini insomma no spesso molto contestate è percepita poi dalla società e dalla politica? io credo che dalla società sia percepita molto meno dalla politica che passa troppo tempo a fare la morale ai giovani a spiegargli come devono protestare in che modo fatto salvo ovviamente che è da condannare ovviamente quando ci sono episodi di violenza ma le manifestazioni che spesso pacifiche mettono in campo i giovani dovrebbero essere ascoltate per ciò che mettono al centro della loro protesta e sono i cambiamenti climatici perché quei cambiamenti climatici spesso anche la politica un po' più attenta parla di una terra che sta soffocando in realtà noi stiamo costruendo dei cambiamenti climatici che faranno sì che si estinguerà la razza umana non la terra la terra sopravviverà e allora per questo serve un altro modello di sviluppo anche perché quello che abbiamo conosciuto negli ultimi 30-40 anni c'era stato promesso che con precarietà del lavoro da una parte privatizzazione dei servizi pubblici dall'altro tra cui anche la sanità e lasciando continuare le multinazionali le imprese comunque a deturpare l'ambiente sarebbe arrivato maggiore benessere minore maggiore occupazione e minore disuguaglianze è accaduto esattamente il contrario oggi che siamo nel 2024 forse possiamo interagire con l'idea di avere una transizione ecologica e costruire buona politica spesso si dice a un costo la transizione ecologica certo a un costo ma quelli che si sono arricchiti in questi 40 anni usando le fonti fossile deturpando l'ambiente forse sono anche quelli che dovranno pagare questo costo c'è stata l'alluvione in Toscana il 2 novembre scorso è piovuto da me non era mai piovuto così tanto nessuno se lo aspettava danni in gente alle attività alle persone chi pensate che l'abbia pagata più di ogni altro le persone povere quelle che non avevano la possibilità magari di utilizzare subito denaro per rimettersi in piedi i cambiamenti climatici li pagano già la povera gente per questo servono politiche per la transizione ecologica e quindi la domanda è quali politiche perché sappiamo che è comunque importante tenere insieme un'economia che anche insomma va preservata anche quella per evitare che poi anche in questo caso i costi ricadano sulle persone più povere perché poi alla fine è un cerchio però qual è il punto di caduta tra un'economia che va preservata e un pianeta che va ovviamente preservato assolutamente però attenzione perché l'economia che noi stiamo vivendo è un'economia che davvero regala precarietà e non benessere anzi solitudini oggi noi abbiamo una grande opportunità perché è chiaro che nella transizione deve essere anche guidata socialmente ma noi abbiamo l'opportunità di rispettare l'ambiente e costruire nuove filiere di mercato produttive e anche un sistema di politica industriale che rispettando l'ambiente determina nuovi e buoni posti di lavoro l'Italia in questa ha tante eccellenze però chiaramente tu devi costruire una visione nella quale provi a far transitare da chi utilizzava fonti fossili a chi utilizza fonte rinnovabili per fare un esempio e persino Confindustria in questo ha studi non parlo del grignodillo dei studi europei ma ci sono studi numerosissimi studi che parlano di centinaia di migliaia di lavoro ci sono generazioni che oggi mentre magari chi studia ingegneria ambientale 40 anni fa studiava come implementare una discarica al tempo mio magari come costruire un inceneritore oggi studiano l'economia circolare cioè come fare in modo che dall'estrazione di una materia prima quella materia prima diventi prodotto ma mai rifiuto ritorni in circolo e per farlo devi convolgere tutta la comunità i sindacati i parti datoriali le università gli enti di ricerca le istituzioni cioè fare in modo che c'è davvero una visione della politica nella quale vede davanti a sé due sfide la digitalizzazione e la transizione ecologica e ne coglie l'opportunità per costruire non solo nuovi posti di lavoro ma che siano anche dignitosi e buoni però a proposito di energia il nucleare è un'opportunità no ma io credo di no e guardi non lo dico da un punto di vista ideologico ma perché ci vorrebbero talmente tanti anni costruire in questo momento centrali nucleari che chiaramente noi invece abbiamo una fretta e la fretta è qui ed ora dal punto di vista dell'indipendenza energetica perché c'è anche un tema geopolitico non indifferente e dall'altro perché appunto c'è una transizione ecologica da mettere in atto l'ultimo tema che trattiamo la domanda vado abbastanza secco c'è un problema di stato di diritto dell'Unione Europea l'Europa intanto è ovviamente un presidio di diritti basti pensare che tutti gli attacchi i sovranisti non vogliono l'Europa una volta David Sassoli si domandò retoricamente perché gli stati le dittature i stati autoritari ce l'hanno tanto con l'Europa e si rispose perché l'Europa è dove i diritti la libertà i valori certi tipi di valori sono stati implementati sono stati resi possibili e per questo anche Giorgia Meloni è così contrario all'Europa perché da una parte abbiamo un governo di destra che tenta di attaccare l'aborto e dall'altro c'è l'Europa che vorrebbe inserirlo come valore nella propria carta di diritti fondamentali poi ci sono però dei paesi che non rispettano lo stato di diritto Orbán e c'è un punto fondamentale che chi non rispetta lo stato di diritto non deve avere fondi pubblici io non voglio pagare con le tasse degli italiani nemmeno un euro a nessun paese europeo che viola il principio dello stato di diritto i diritti civili e così via e questo guardi dovrebbe valere anche per la politica estera perché l'Europa così fa anche iniziativa politica noi non dovremmo trafficare non solo in armi ma dovremmo essere davvero un presidio sui diritti umani perché questa l'Europa deve essere la dimostrazione che il mondo può campare anche in maniera conviviale perché questo noi siamo se raccontiamo spesso che non ci sono state guerre dal dopoguerra non è perché a un certo punto qualcuno si è svegliato e ha detto c'è stata la guerra ora facciamo la pace ma perché c'è stata una grande intenzione e delle madri fondatrici dell'Europa che l'Europa poteva essere da una parte una stanza di compensazione nelle controverse tra paesi e dall'altra il welfare anche lì perché c'era l'idea che per noi eravamo una comunità che non lascia indietro nessuno e quindi quando c'è una fragilità o una povertà non deve scadere nella paura e nella rabbia ma anzi c'è uno stato che se ne fa cura però parliamo degli altri però parliamo degli altri paesi europei e poi notizia di qualche giorno fa l'Italia non ha firmato la dichiarazione europea sui diritti LGBTQ plus cosa è successo? guarda io trovo insopportabile è successo che abbiamo un governo reazionario è insopportabile perché vogliono entrare nella vita delle persone un ragazzo e una ragazza che amano una persona dello stesso sesso non ledono nessun diritto di un'altra persona e devono avere la libertà di amarsi di prendersi per mano in strada e lo stato deve essere il primo a garantire quella libertà e lo deve fare con dichiarazioni con leggi con simboli se invece tu lo attacchi a parole ogni volta parli di famiglia tradizionale quella ragazza o quel ragazzo diventerà meno cittadino di altri e il fatto che il mio paese non abbia firmato quella dichiarazione che era una dichiarazione dall'altro contro l'omofobia tant'è vero che ricalcava come hanno detto fonti del governo la motivazione è stata perché ricalcava il DDL ZAN è qualcosa che mi fa vergognare del mio governo anche perché già mi vergogno del mio paese anche probabilmente a causa anche di errori del passato in cui ha governato il centro sinistra già mi vergogno il mio paese che non ha una legge contro l'omotransfobia già mi vergogno il mio paese che è uno dei pochi che non ha il matrimonio equalitario ci mettiamo perfino ad avere la timidezza nel firmare delle semplici dichiarazioni in cui dicono che le persone hanno il diritto di essere felici e di amare chi vogliono ma stiamo scherzando nel 2024 andiamo verso la conclusione allora l'ultima cosa che le chiedo e che stiamo chiedendo un po' a tutti sappiamo che diciamo in generale c'è insomma forte disincanto disaffezione rispetto alla politica sappiamo i tassi di astensionismo in questo paese e poi le elezioni europee non è che siano proprio la tornata elettorale più interessante storicamente e la domanda qui è abbastanza semplice anche qui insomma perché una persona l'8 e 9 giugno dovrebbe andare a votare non dico per forza per voi in generale perché è così importante diciamolo insomma andare a votare è importante andare a votare perché se tu non ti occupi della politica comunque la politica si occuperà di te io ci sono una cosa che mi fa arrabbiare devo dire e perdere un po' il controllo e quando mi dicono siete tutti uguali e oltre al fatto personale chiaramente ma perché c'è un tema se sono tutti uguali in politica niente tutto rimarrà com'è e le persone più fragili quelli che ci rimettono da un certo tipo di politica non vedranno nessun cambiamento in atto per questo andare a votare scegliere magari chi può rappresentare un cambiamento è una cosa importante guardi le racconto così cinque anni fa dinanzi alle elezioni europee avevamo comunque tanti timori quanto abbiamo adesso perché ora forse è ancora più importante l'avanzata dell'estrema destra dal mio punto di vista ovviamente l'estrema destra persino di figure e partiti neofascisti neonazisti cinque anni fa avevamo il timore che Marine Le Pen potesse diventare presidente del Parlamento Europeo poi ci fu un'elezione europea che andarono invece in un altro modo e presidente del Parlamento Europeo diventò David Sassoli e racconto un solo episodio David Sassoli in pieno Covid aprì le porte del Parlamento Europeo e dette pasto e rifugio a mille senza dimora a cento donne vulnerabili la politica non è solo lo schifo che a volte si vede non è solo l'interesse particolare a volte ci sono ancora persone che ci tengono alla cosa pubblica e pensano che la politica sia ancora a cambiare il mondo e cambiare la quotidianità di chi non sta bene io l'invito che faccio non è ad andare a votare purché sia mettete una croce andate a votare informatevi arrabbiate fate conflitto incalzate la politica ma non lasciate che tutto rimanga uguale perché quando tutti sono uguali appunto non cambia niente prendetevi lo spazio e fatelo assieme a coloro che dimostrano avere generosità nel darvi quello spazio perché la politica è la cosa più nobile e più bella che ci sia posso bene quanto è infangata ogni giorno ma c'è ancora chi prova a renderla ogni giorno più nobile del giorno prima l'ultimissima domanda la sua idea di Europa in tre parole libera di pace e la terza parola vorrei dire davvero felice grazie Marco Furfaro grazie a voi davvero